vediamo un poco che stanno facendo questi signori di ciò che vedi in città buonasera volevo fare un video nella nostra nuova sede e la mano ma ci avete proprio una bella questa è la sala barra qui si entra c'è il caffè il livanino questo è lo sgabuzzo questo è il tesoriere questo è il plum cake questo è il pescualetto consigliere dottor de rosa de rosa con la di minuscola minuscola di questo è ciò sta sempre tutto cagato sotto ciò ci siamo messi pure un plum cake però che c'è qua la vacca dinta questa è la sala ronioni ancora non è allestita del tutto ecco qua la sala ronioni si vede bene questa qua ve la possiamo dare anche incomodato con una piccola partecipazione ecco qua questo è il nostro monumento dipinto da luigi migliozzi questo è il bagno questo è il bagno questa è la nuova gopro 3 plus black edition questo è il bagno che non lo chiudono mai raga veniteci a trovare quando volete noi qua stiamo grazie a tutti grazie a tutti